Questo stimolo naturale è nato da una riflessione sul valore di questa vita prima della vita che noi chiamiamo vita prenatale e dei modelli che essendo anche allora amante dell'arte della musica io ritrovavo nelle espressioni di tutti i linguaggi tipo per esempio il catartico ritmico, quindi quando l'essere umano vuole fare festa in una piazza, in un concerto, in un finalone teatrale, nella poesia, crea appunto questo crescendo finale e lì mi sono interrogata sull'orgasmo che è all'origine dell'organismo, quindi quando si può andare indietro, si può andare indietro risalendo fino all'attimo in cui è scaturita la nostra dimensione esistenziale. Quindi la festa della vita e questo appunto ho già citato, mi era stata incentivata dalle mie sedute con Assagioli e la festa della vita per me qui però significava abbiamo vinto la lotteria, la lotteria della vita, sono lo spermatozoio incente per dirla come la dica ai bambini e il discorso era molto serio, era dire questa gran festa di cui poi inconsapevolmente ripetiamo l'iter nel catartico, si balla fino all'alba, ci si mangia tutto senza misura, è proprio veramente il momento fondamentale dal quale scaturiamo tutti in qualunque condizione sia avvenuto il tutto, per la natura conta il futuro della specie, quindi è un momento che va oltre e questa la chiamano appunto la traspersonalità va oltre la persona di per sé, è una festa per il mondo che tu viva, che tu viva, che è una specie di imperativo che l'uomo si porta dentro di sé geneticamente perché la natura ci dimostra di far del tutto per farci sopravvivere alla sofferenza, al dolore, anche a dei travagli da parto difficili, anche dall'endorfine a tutto quello che avviene durante questa vita prenatale e allora mi sono messa ad osservare di più cosa succede nella vita prenatale, prima di tutto c'è una volontà della natura di un modello che possiamo chiamare l'annidamento, sarebbe a dire l'ovulo fecondato deve farsi spazio e lo cominciamo a fare anche col corpo, dentro il piacere della vita sarebbe a dire la placenta, quindi ci rende subito attivi la legge della vita e l'annidamento è un avvitarsi, è bello il gioco di parole, un avvitarsi in modo concentrico come un fagiolo che mette una radicetta o qualche altro seme che mette radici nella placenta come nella vita. Questo modo è un modo concentrico, quindi è la modellizzazione del primo stile che è un po' i mantra, oltretutto il suono sferico nel liquido amniotico con conduttore per eccellenza del suono e che oggi è anche registrabile proprio, una circolarità e io ai bambini lo faccio capire facendogli riempire delle brocche meglio se so di rame o di terracotta perché sentivano e si sente l'armonico, quindi è capire che significato stare nove mesi dentro suoni armonici, circolari, ma soprattutto nella prima fase della vita in cui noi dovevamo effettivamente prendere spazio attraverso questo annidamento. Quindi da lì è venuto tutto lo studio che io avevo artistico alle spalle con delle convalide in tutti i luoghi del mondo e soprattutto a livello primitivo troviamo spirali, troviamo forme concentriche considerate non per la loro funzione immediata e esistenziale, considerate come il bello della vita, quindi queste forme ancestrali che abbiamo dentro di noi che sono quelle anche cosmiche da un punto di vista musicale, la famosa musica delle sfere da cui muovono tutti questi canti che dovrebbero portare a stati di concentrazione, poi che siano di preghiera, di mistica è importante. Questo è lo stile concentrico che ritroviamo nei rosoni, in tante forme appunto di abbellimento di quello che l'uomo crea. Dopodiché mi sono trovata, siccome io dopo l'esperienza con mia figlia ho cominciato a essere sempre più interessata a partire dai più gravi proprio per osservare queste forme regressive e mi sono trovata di fronte a quello psicotico con un elastichetto che lo ruota ossessivamente davanti agli occhi che con un altro che gira costantemente su se stesso, sembrano reggersi in piedi però non perde mai l'equilibrio chiaro che mi interessava la danza, i danzatori sufi, tutte queste cose correderali e ho cominciato a fare il ponte fra le arti e l'arte di vivere. Quindi quando dico concentrico dico che anche il pensiero, una delle riflessioni, segue lo stesso processo. Tutto inizia da un punto dall'esistenza del punto, cioè un girare concentricamente intorno a quell'idea e quindi l'irradiazione dal punto e alla fine, è bello che noi diciamo, alla fine ne scaturisce un concetto che poi è il concepimento e l'esistenza proprio di Udè, un'idea ormai con le radici. Quindi questo è lo stile concentrico, poi quasi in contemporanea c'è lo stile dondolante, sarebbe a dire siamo una piccola morula che è una sfera di cellule prima che nell'acqua, nel liquido amniotico abbondante non può far altro che dondolare e allora capire che quando non c'hai ancora gli arti tu puoi solo lasciarti andare al flusso e questo è l'altalena, il cavallo a dondolo, tanti giochi che l'essere umano si inventa ma anche il nostro dondolare in un momento di impazienza, il nostro dondolare le chiavi, la borsa mentre stiamo aspettando, il nostro fare un passo qua e un passo l'altro dentro la fila alla posta e per parlare che non esiste più il confrine fra normale o padologia perché in un momento di precarietà coincidono i comportamenti regressivi, simbolici a livello formale, quindi questo è il movimento anche dell'infinito e avere persone handicappate che vivono facendo così oppure facendolo con la voce oppure giocando con un pezzetto di carta, ormai c'è una valanga di documentazioni di stereotipie di bambini, di persone gravemente handicappate ma anche di anziani per cui mi sento di dire certo questa sensibilità estetica, estetico se come capace di sentire non si estingue mai in nessuna condizione è il riferimento che aiuta a vivere anche la persona deprivata di stimoli quindi la memoria del corpo, queste memorie primarie e tutto quello che significa nell'arte una statua qui e una qui, una processione di vergine e una di martiri e quindi quello che noi chiamiamo la decorazione, quello che dà decoro alla vita umana, al palazzo di knosso, sono le ripetizioni che ci rendono la vita dondolante, quindi camminare tra le navate del partenone significa una colonna di qua, una di là, il nostro corpo a simmetria radiale che si sente tranquillizzato, rinforzato proprio dal sistema del dondolante, chiaro che di dondolante da Gino Paoli poi torni vicino, alle ninne e nanne universali per dire lo riconosciamo tutti, lo riconoscono pure i bambini, quindi capire quanto fra l'arte e l'arte di vivere ci sia proprio un sottilissimo ponte che va rivalutato però, perché un conto dire che sono comportamenti insensati, come viene detto in campo psichiatrico, clinico, riabilitativo e spesso con delle torture per togliere di mezzo questi comportamenti che significano l'handicap come immagine, quindi tanti genitori ossessionati ai tempi anche dai comportamentisti che hanno obbligato proprio a reprimere la stereotipia scoprendo solo dopo un po' che se la reprimevi in un modo usciva fuori in un altro, perché l'essere umano con quella forza naturale esistenziale di vita recuperava questa memoria del corpo, del dondolamento, del dondolante. Poi da lì con una passione artistica a dire, vediamo un po' quali sono stati i movimenti dondolanti nella danza, quindi le danze per esempio dello swing, delle litanie, chiamiamole così, dei negri che cantavano alla loro condizione che erano delle nenie dondolanti e capire il senso che c'era dentro, una regressione profonda attingendo a questo primo senso di impotenza, perché in realtà non avevamo potere sulla realtà, eravamo affidati alla corrente. Quindi ogni volta che ci troviamo a dondolare, io dico domandiamoci perché, minimo, e poi ringraziamo la natura che ci fa riemergere questi stati profondi consolatori. Dopo il dondolante c'è lo sviluppo psicomotorio degli arti e quindi basta solo che ci sia appena un abbozzo di tentacolo, perché anche nella vita prenatale stiamo riattraversando per legge di natura e geneticamente predisposta, l'ontofilogenesi, cioè improprio tutta l'evoluzione degli organismi sul pianeta Terra, quindi dalla prima cellula ovulo fecondato all'anfibio nel momento della nascita. Noi viviamo nell'acqua, veniamo tutti dall'acqua e seguiamo questi comportamenti nell'acqua. Appena esistono c'è già a due mesi un sistema neurologico che registra formalmente il movimento e quindi cominciamo ad avere gli arabeschi, li chiamiamo così, in un'acqua in cui la linea retta non può esistere perché continuamente viene ricondotta a sinusoide e quindi abbiamo lo stile melodico articolato, che si articola con gli arti e è una melodia anche del suono del liquido amniotico che si articola. e quindi quando sentiamo quando sei qui con me, qui è dondolante, poi a un certo punto va suona un'armonica, mi sembra un organo che suona e qui scadulisce il melodico, quindi spesso in musica e non facciamo differenze fra musica colta, musica popolare, musica in musica, c'è prima un dondolante e poi un melodico tipo e via di seguito, quindi quest'arabesco bello del melodico in cui c'è un prima e un dopo, quindi c'è un premio, già presento, la salita, la caduta, perché sono memorie profondamente corporee, quindi è chiaro che io sono un appassionato ormai di questi andamenti lineari chiamiamoli, che nella vita li puoi riconoscere nello stile del pensiero, nello stile di un segno, anche fosse di un tossicodipendente che sta fuori dallo stato di realtà, non a caso si perde il controllo del tono muscolare, si rientra in questi stati in una mancanza di gestione della gravità, perché noi eravamo fuori della legge di opposizione alla gravità che è post Natale, quindi quanto è importante ridar senso a questi comportamenti, sto parlando di uno che delira, è un caso psichiatrico che lo vedi nello stato melodico articolato, però abbiamo invece una cultura che ci dice, tanto non sente, tanto non capisce, è fuori di sé, fuori dove poi sarebbe interessante riflettere e non dà un valore neanche estetico alla vita, mentre invece questa persona sta in uno stato regressivo meno profondo di quello che sta nel concentrico, perché poi a livello terapeutico ci servirà come orientamento, perché quando non si può andare avanti si può andare indietro, ma è un escamodaggio nella natura in cui noi che siamo la specie che ha più forme di terapia, è come se l'essere aspettasse che qualcuno gli dà la spinta per superare lo scalino, quindi immaginiamo una carrozzella che non ce la fa andare avanti, scivola all'indietro, però solo se uno gli dà la spinta riesce a ritornare in avanti, quindi questa attesa che c'è dentro le persone proprio più gravi, più inermi, più incapaci di superare lo scalino da soli, allora quello può essere un interrogativo sociale e questo apre gli orizzonti di questa disciplina della globalità dei linguaggi, sarebbe a dire quanto è importante capire che si può applicare tutto questo come consapevolezza della maternità e paternità, quindi preparazione al parto, preparazione a quello che vedremo sarà il viaggio dell'eroe, preparazione, a tutti quei comportamenti che invece vengono solo visti come patologici e non come autotelici, che è una delle basi della dimensione artistica, chi fa arte in fondo sta facendo un lavoro autotelico su se stesso che noi riconosciamo a livello universale perché possiamo rispecchiarci nell'arte in quanto esseri umani che hanno queste storie e registrazioni comuni. Dopo il melodico articolato l'esserino è piccolissimo rispetto al volume ancora liquido e può roteare e questo è il spesso viene confuso con il concentrico, ma è molto di più, è girare intorno, quindi la cinta delle mura, la forma stellata, è tutto quello che circoscrive attraverso il movimento, quindi è un senso di libertà spaziale enorme, quando siamo felici io mi ricordo solo una felicità di tipo affettivo, erotico, adolescenziale in cui ero molto contenta, portavo a tavola il piatto con i fagioli, mi ballavo il varzo e i fagioli sono andati tutti in giro per dire che quando qualcuno è contento non ti è preoccupato delle conseguenze, ma gli prende il giro e quindi se è un bambino può essere anche un adulto, io auguro a tutti il waltzer, sarebbe a dire è stato un momento storico meraviglioso, demonizzato non a caso anche dalla chiesa, perché era una libertà assoluta dell'essere fuori qualunque regola per la beatitudine di abbracciare lo spazio enorme che ha fatto inventare le sale da waltzer, il parco con il gazebo e il waltzer intorno, quindi è stessere umano, non si può non amare se si arriva a questo senso estetico della vita, ma quante se ne è inventate e quante se ne inventa l'handicappato più grave pur di sopravvivere secondo un principio di piacere restituendosi questi vissuti a livello anche psicomotorio, quindi dar senso ai comportamenti sensali è il filo rosso, dopo il roteante che è melodico articolato, roteante, abbiamo lo spazio che si restringe rimanendo elastico e comincia il tucatuca, sarebbe a dire il feto comincia a toccare i confini, è la prima volta alle pareti dell'utero e ad avere una memoria tattile che si chiama dialettica del duro e del molle, è il momento in cui il bambino comincia a farsi sentire di più in movimento, perché esplora questo spazio intorno e certamente lo spazio uterino è uno spazio sempre liscio, morbido, però con consistenze più o meno di affondamento e la cosa interessante è proprio il discorso che quando ci chiedono come va, se le cose vanno bene diciamo va tutto liscio, quindi le memorie del corpo noi ce le abbiamo anche nello stato di coscienza, ma abbiamo perso il corpo verrebbe da dire come senso e certamente ce lo restituisce, l'handicappato che gira su se stesso, il bambino che gioca a fare il giro tondo che è un universale, l'adolescente che balla il valser e batte la pesca, tutto quello che gira, compresa la giostra che è un universale, il rotor, tutti questi giochi, a Luna Park i stili prenatali ci sono tutti quanti alla grande, perché è un modo di evadere dalla realtà secondo un principio di piacere, quindi il tucatucca è il contatto e comincia la memoria, non solo il piacere ma il compiacimento, piacersi con l'altro, con questo rincontro che si chiama riconoscimento, quindi io riconosco delle cose riascoltando le sensibilità e certo anche quando ritroviamo una cosa dimenticata in un cassetto, viviamo un momento di felicità, il ritrovamento, che lo chiamiamo riferimento, riferire nello stesso punto e io credo che i giovani d'oggi e tanti bambini nella scuola, soprattutto per una non consapevolezza di questo, vivono smarrimento, un lavoro pedagogico, terapeutico per far ritrovare i punti di riferimento. Sempre di più ci hanno tante figure intorno, ma non più dei riferimenti fissi. Quinto stile, ritmico staccato, è quello che abbiamo descritto del ritmico, il rincontro dei riferimenti, certamente l'utero diventa sempre più stretto, il feto si accomoda in una posizione in cui la curva della schiena è tutt'uno con la curva dell'utero, ma entra più in rapporto al movimento delle mani con il cordone ombelicale e ai movimenti dei globi oculari sotto la palpebra, cioè quando gli arti non possono più muoversi, si può dire che in quest'ultima fase della gravidanza, cioè il sesto stile dell'immago azione, c'è il seguire le immagini come nella fase REM quando sogniamo, dei globi oculari sotto la palpebra, quindi abbiamo questo vissuto di sonno fetale che ormai è stato anche riconosciuto con un tracciato elettrocefalografico uguale fra la madre e il feto, quindi questo fa ipotizzare che la madre sta trasmettendo al bambino immagini del mondo che incontrerà, questo spiegherebbe anche questa facilità di assuefazione dall'acqua all'aria, dalla non gravità alla gravità e tutto questo ci fa capire che cos'è immagazione, anche perché sta cambiando il metabolismo della madre che si prepara al parto e quindi cambiano anche i ritmi e questo ritorna sempre con le arti, fra le arti e l'arte di vivere come surrealismo, come vederci poco chiaro, quindi tutto quello che è l'impressionismo, ma vedere delle immagini che si avvicendano e poi ancora di più nell'arte d'avanguardia, quindi in tutto quello che non è solo il messaggio onirico è anche delle esistenze di oggetti inusitati, Duchamp che fa questo cambiamento totale d'uso degli oggetti, Magritte che fa se questa è una pipa e via di seguito, è come dire è un vissuto che noi abbiamo avuto in cui questi oggetti strani potevano assumere qualunque plasticamente, qualunque funzione come avviene spesso anche nel sogno e quindi questa dimensione che ci abitua ad entrare nella realtà e che precede anche con ansia perché non è più il ritmo prevedibile di prima, non è più un abbandono allo stato che si sta vivendo ma un presentimento, il presentimento è quello della prima doglia espulsiva alla base della schiena che non a caso si chiama punto di vita che per tutta la vita quando abbiamo delle prospettive secondo il desiderio si erige e quando noi perdiamo fede nella vita, nel principio di piacere non ce ne accorgiamo ma andiamo giù proprio con questo punto che poi gli orientali chiamano il risveglio di Kundalini, no, al corpo, le storie del corpo hanno un'infinità di percorsi però la cosa essenziale per noi è le memorie primarie del corpo, quindi questa memoria della prima doglia espulsiva che ci rende flessibile anche una colonna vertebrale che invece era curva, no, secondo la curva dell'utero. Da questo momento comincerà il travaglio da parto, immaginiamo, e quindi un canale vaginale, sarebbe a dire al di là poi delle eccezioni, la natura prevede che il bambino esca col campo anteriore che è molto sviluppato rispetto al resto del corpicino e la cosa essenziale è aprirsi la strada fronteggiando la situazione e prendendo di petto la vita, diciamo, sarebbe a dire strisciando dentro un canale vaginale che ci dà la direzione, prima non ce l'avevamo e come? Con il puntellamento dinamico delle clavicole che si chiamano così perché sono le chiavi del movimento che per tutta la vita se io ho intenzione di andarmene mentre parlo già sto orientando prima di muovermi. Le clavicole, quindi tutto il discorso simbolico, i linguaggi non verbali, il corpo matrice di segni in ogni sua parte, comincia con questo primo attraversamento dello spazio, finalizzato proprio alla sopravvivenza, quindi con Eros e Thanatos, pulsioni di vita e di morte che entrano in agone e con un essere umano che in questo che noi chiamiamo il viaggio dell'eroe è protagonista, sarebbe a dire non può mandare contro figure, deve essere in prima persona. Questa sarà un'esigenza profonda che vivremo per tutta la vita sulla quale si basano i valori dei miti e delle fiabe che aiutano l'essere umano a un'immedesimazione protagonistica. Mai come oggi c'è questo bisogno di protagonismo e quindi teniamone conto di quanto sia importante per gioco, come fa la globalità dei linguaggi, restituirci questa esperienza del viaggio dell'eroe. Allora per sintetizzarla diciamo che l'ultimo stile questo del viaggio dell'eroe è il catartico perché le toglie espulsive sono incalzanti, c'è una fuoriuscita delle acque che ci direziona ancora di più e nello stesso tempo ci rende pesanti. È la prima volta che noi viviamo la fatica, la fatica di un tono muscolare che deve comunque avanzare, questo per dire che sono prove di ingresso proprio alla vita date dalla natura e che ci fanno capire l'importanza di questo percorso che è un convissuto fra doglie espulsive della madre e voglia di venire fuori, di riuscire che durerà per tante altre vicende della vita nell'eroe di turno. Allora abbiamo detto fronteggiare la situazione che significa anche però sentire piacere quando siamo investiti dall'aria, per cui tutte le vittorie alate, tutte le marce di rivoluzione sono tutte controvento con le bandiere che segnano il controvento, i vestiti controvento, se gli cambiamo la direzione del vento non c'è più rivoluzione, non c'è più vittoria, quindi capiamo come siamo sensibili esteticamente a queste memorie universali che ci parlano attraverso l'arte, però allora cambiamo anche l'iperventilazione di una persona che sopravvive nonostante abbia avuto delle immagini terribili, tipo la mamma che si è lanciata nel vuoto e che proprio con l'iperventilazione riesce a cancellare qualunque immagine mentale, oppure che cosa significa giocare appunto con stereotipie, con pezzetti di plastica vicino al viso, o mettersi cose contro il viso, perché c'è questo avanzare, questa via d'uscita che è lì, che fa sì che, la facciamo un po' breve, tutti fronteggiando la situazione per la prima volta viviamo un confine, la simfisi pubblica contro la quale impattiamo, e questo è il gesto della disperazione umana universale, contro il primo osso duro si dice, sarebbe a dire ostacolo, osteggiare, ostinato, tutte parole che hanno una iniziale diciamo anche per assonanza con osteos, con osso, che mi dice non puoi andare avanti, anche se ti sembra di avere vicina la via d'uscita come in tante fiabe, miti e quindi l'ansia del trovare le altre vie d'uscita, altra stereotipia comunissima che anche fra una persona che c'ha fretta e deve comprare le cose a Natale, si mette in mezzo alla folla a fare così, però poi di stereotipie patologiche in situazioni di handicap grave, di alzheimer, eccetera, ce ne abbiamo tante. Allora, questo cercare la via d'uscita è l'angustia, lo spazio che è diventato troppo angusto e la natura ci costringe a sottometterci al senso di realtà. Allora, questi movimenti, il collo del feto non aveva mai avuto modo di farli, quindi di nuovo la natura ci educa a sottometterci all'ostacolo e a riemergere come fa un delfino e questo è il riuscire con il primo vagito che è il bruciore nell'ingogliamento dell'ossigeno in maniera diretta, ci abbiamo un cordone umbilicale ancora come un sommozzatore e quindi diventa un ghe, un ghe, un u e ghe e la e vibra proprio nelle corde vocali, quindi non è un uo, ua, ui, ue, è un ghe ingolato. Tutte le volte che prenderemo una parola siamo molto emozionati, chissà se ci riesco, al collegio dei docenti ci ritroviamo con la voce ingolata per far capire quanto siano profonde e universali nei diversi contesti le memorie del corpo. Ecco, io credo questo sia l'essenziale per capire quanta storia abbiamo già prima di nascere, quanto questo ci può illuminare per capire le arti, sarebbe a dire abbiamo iniziato con il catartico dell'orgasmo e poi abbiamo il catartico del riuscire, della nascita, quindi questo finalone fuochi di artificio, banda, musica, quindi crescendo di energie e di scarica è proprio uno dei bisogni più grandi anche del gioco spontaneo dei bambini, quindi questo spero ci illumini per non riuscire mai a dire comportamenti insensati.